Davide, tu sei il nostro bello più lucido di tutti in questo momento Tieni, allora posso presentarti Vai, ti va Non ci vedo con questo flash E quindi dicevamo che oggi è una serata un po' particolare Perché oggi siamo usciti, io continuo a prendermi queste medicine Diciamo che rischio di fare un intervento Ma nonostante ciò, volevo presentarvi il grande Nunzio Nunziante Guardate quanto è bravo, si fa il letto Abbiamo fatto un video tale e quale, due secondi fa Perché? Perché io ti amo Facciamo vedere la tua stanza Perché non ho capito, perché luce è la più colorata della nostra Perché io sono serio Perché luce è la camera celeste e noi ce l'abbiamo Sì, ha fatto perché mi ha mostrato meno il colore Me la so pitturata secondo i miei gusti, mi dispiace Se voi siete incolori Che gusti di merda? Beh, celeste Napoli Io invece, la mia camera è rossa Rossa Ferrari, perché il mio sangue c'è sangue massa Dopo sta cazzata penso che a luna e venti possiamo pure andare Oh, c'è un togazzo, non sta frusta E sta le... E sta le cazzate Fa sto un po' Davide E' arrivata l'ora di postare L'arca sarà nostra Chiaramente non sta bene Potete osservare un esempio di... Un esempio di Dementus Pugiesus Cerniolanus Della stirpe Cerniolanus Cerniolese Nella sua tipica espressione più deforme Soltanto perché ho delle manette E una frusta non vuol dire che io sia un marco sessuale Ma c'è Cucca Vi saluto, buonanotte a tutti Perché lui è serio e laureato, via Beh, più grande più da me